La guerra dei droni senza equipaggio. Riuscite a credere a questo? Meno di 20 anni fa, questo non era altro che fantascienza. Ci intratteneva sui grandi schermi. Ed un numero incredibile di situazioni nei film sono state costruite sull'idea delle guerre di droni. Bene, è quello che si vede in questo caso adesso, dove quello che era fantascienza è diventato un fatto di scienza. Recentemente, sul sito web nasdaq.com, c'era un articolo che diceva l'Air Force è in grado di testare delle portaerei di volo all'inizio del prossimo anno. Questo. Ora, questo sembra un concetto decisamente lontano, giusto? Voglio dire, quando si pensa ad una portaerei oggigiorno, non si tratta solo di una singola nave. No, per far sì di supportare completamente questa nave, ne servono almeno un altro centinaio. Pertanto, quando pensate all'idea di un giorno di guerra moderna, dove sono in grado di inviare una portaerei, una di quelle di per sé più potenti, questa ha un arsenale di armi che nessuna nazione può avere. Negli Stati Uniti ce n'è un bel numero di queste e sono fortunati di ciò. Quindi, dopo aver iniziato a guardare a questo, abbiamo incominciato a vedere che in realtà sta arrivando una nuova ondata e probabilmente senza fare troppo rumore, come farebbe una banda, forse con più stealth, e comunque sia, è qui. I droni sono ovunque. Se guardate ad oggi e pensate a quanto è successo negli ultimi due anni, signore e signori, negli ultimi due anni, i droni sono, bene, lo sapete, si tratta di qualcosa che possiedono sia le grandi aziende che i militari. Non per tutti i giorni, ma oggigiorno, il consumatore medio può avere il proprio drone. Sono ovunque. La cosa triste è che non è in particolare solo per i militari, ma molto presto anche per la polizia. Sono stati progettati per queste applicazioni, per uccidere gli umani. Si tratta di killer delle persone. Sì. Lo so che non siamo stati allenati a pensare a cose del genere, ma questo alla fine è quello di cui si tratta. E non è nemmeno più terrificante se iniziate a pensare che la modalità di come continua ad evolversi tutto questo è che non ci sarà più bisogno nemmeno delle persone. Un semplice dispositivo progettato per sostituire la nostra forza viene convertito dentro a delle macchine di morte. Ecco, questa è l'idea. All'inizio un C-130 sarà convertito in un vettore madre. Sì, un vettore madre. E non si tratta di uno stealthy. Credetemi, stanno sviluppando qualcosa che, come posso dirlo, che incastrerà il tutto perfettamente. Spellerà centinaia di quelli che vedremo come dei robot automatici. Usciranno. Lasceranno cadere il carico da 25 kg che potrà ritornare dalla nave madre senza aver perso alcuna persona da parte di chi controlla i droni. Ora, se ricevete il pacco di droni, beh, questa è una storia differente. Ma per quanto possiate pensare all'aereo stealth, un aereo che, sapete, si trova proprio qui, di fronte a noi. Dovete sapere che, beh, ce lo hanno insegnato attraverso l'FBI e le Accademie, che il miglior modo per nascondere qualcosa è di mettervela in piena vista. E non c'è dubbio che il 90% della popolazione non guarda mai in su. E così, come possono saperlo? Come possono sapere cosa è vero, cosa non è vero, cosa può essere e che cos'è? Non c'è alcun dubbio che altre nazioni hanno la tecnologia che abbiamo noi, o perlomeno paragonabile alla nostra. A tutti noi piace pensare che gli Stati Uniti sono molto più evoluti degli altri. Ma chi lo sa? Ma tutta l'intera idea è di lanciare un tipo di portaerei armata contro altre persone. Perché saranno le macchine a far funzionare tutto questo. Ora, penso di aver iniettato questa cosa come un preludio per il prossimo video che voglio andare a fare. Ma desidero orientare tutti voi affinché tutti quanti possano comprendere che questa evoluzione di droni è stata una evoluzione affinché coesista la tecnologia che già abbiamo, ed in questo caso con i triangoli. Sono qui da oltre un quarto di secolo. Dovete sapere che ne è stato riportato uno già agli inizi degli anni Ottanta nel Midwest, un enorme velivolo dalla forma di triangolo che volava senza emettere alcun suono. Bene. Adesso sappiamo da dove arriva questa tecnologia. E non c'è alcun dubbio che possiedono i velivoli. Sia che stiano facendo dei test beta o che in realtà siano già in funzione nei settori operativi. Sono qui e continuano a svilupparsi sempre di più. Gente, abbiamo la tecnologia per comprendere se si tratta di antigravità o, ancora meglio, antimagnetica. La tecnologia si trova qui ed è stata analizzata molto bene. E se riuscite a pensare che questa organizzazione esiste fin dagli anni Sessanta, questa ha avuto la responsabilità per tutto quanto riguarda lo sviluppo della tecnologia avanzata. Probabilmente più che in altre agenzie del governo degli Stati Uniti. Considerate la DARPA, il capitale di rischio della macchina del complesso dell'industria militare. Oh, hanno fatto un grande lavoro su di noi. Hanno riscritto il nostro cervello. Ma non è questo quello di cui parla il video. No, 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 no. Questo video è su quello che sta diventando la guerra dei droni. State pensando a come vogliano farci diventare in realtà dei droni? Oh, no, 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 no. Ma per quanto effettivamente riguarda la conversione di cosa potrebbe essere il campo di battaglia e di come in realtà si dispiegherebbe questo intero processo è che sta cambiando. Sta cambiando per diventare sempre più robotico ogni giorno. Questo programma si chiama DARPA Gremlin, veicoli aerei senza equipaggio. Oh, sì, sviluppano anche questo tipo. Quindi parliamo di quanto sta andando in profondità questo progetto. Hanno perfezionato questa tecnologia. È diventata così raffinata che quando guardate a quello che sono in grado di fare con una di esse, una volta miniaturizzata, cambia tutto quanto. Potete essere spiati senza mai nemmeno saperlo. Ed hanno così tanti differenti modelli. Qui vedete disegnati dei modelli di base di droni. Scusatemi, ma anche la medicina supporta i droni, lo sapete? La medicina, sì, è così. Avete il vostro drone di guardia ed il vostro drone di supporto militare. Ora, questo è un drone. E per quanto abbastanza strano è un drone di rifornimento. Ovviamente funziona molto bene nelle operazioni, durante i movimenti in battaglia. Ben perfezionato, ora fa parte del nuovo arsenale, della nuova armata di droni. Come ho detto, è stata ben testata. Ma adesso la parte è inquietante. Abbiamo visto che tutto questo si è sviluppato nei decenni. Ed ora la realtà è qui. Sta di fatto che l'armamento dei droni, sia nelle applicazioni militari che civili, è ovunque e che non se ne andrà. In questo momento è diventata così sviluppata che possono avere i droni armati nelle vicinanze. E voi non lo saprete mai. Sì. Questo è quello che sta diventando realtà. E questa nuova forza di droni, quella che l'Air Force degli Stati Uniti già possiede, sta per uscire sul campo. Probabilmente già quest'anno. Sì. Questo è quello che è già stato fatto. Le macchine, già adesso, le abbiamo lasciate pensare al nostro posto. Perché? Perché riescono a pensare più rapide di quello che possiamo fare noi. Dopotutto le abbiamo create noi, per essere più intelligenti di noi. E veramente non abbiamo niente di cui temere. Non c'è niente di cui temere qui. Sono qui solo per aiutare. Per aiutare l'umanità. Perché loro amano l'umanità. E quindi, Grazie a tutti.